c'è il finestrino aperto si era fatta un po' di gente guarda guarda il tonto la se si toglie guarda niente andiamo sono arrivati i turisti guarda hai capito sono tutti del posto mica che viene da fuori guarda le talche dai nooo è ottimo adesso scaldo un po' il pane di la e allo tosto va benissimo è ottimo questa mattina porridge con due noci una frutta secca questo è il camper che è arrivato si respira bene praticamente mi taglio i pomodori li metto subito dentro altrimenti il vento mi fa volare mi fa volare il piattino di carta senti che vento va viene senti però fuck tira eh senti che vento senti che vento senti che vento senti che vento guardiamo un po' il mare com'è minchia che aria a fare il bagno neanche eccomi allora là sono rimasti due camper un altro se n'è andato via e qua altri due sono là tedeschi il famoso camper la mia cena i taralli i pomodori e qua dietro qua c'è il sentiero che va al mare sono appena andato ma fuck sono bagnato fino alle ginocchia hai lavato la testa la faccia ma fuck troppo freddo dici questi? i don't know ho cambiato posto dal corner dove ero nell'angolo il castigo mi sono mi sono spostato adesso mi sono messo qua nice and beautiful ecco il mio salvavento e da mangiare questa sera c'è un cazzo la mimosa la mimosa ti guarda? le soleil guarda mannaggia guarda vedi? tra un attimo finirà va bene Ginetto venite quando volete io vi aspetto sono qui al mare vieni quando vuoi ciao caro grazie a tutti siamo in partenza grazie a tutti e quindi e quindi sono gli attacchi delle candele praticamente hanno due erano non inattivo no? due non erano inattivo nel senso che quella spirale che c'è all'interno eccetera eccetera oh my wife ho scoperto ho scoperto ho scoperto che non c'è il carburatore in questa macchina e fu l'injection che figura di merda con le candele attraverso le candele la pressione dell'aria non so non ditemi nulla comunque non c'è il carburatore nella vecchia watts c'era in questa qua non c'è e allora era inutile e allora era inutile pensare al carburatore quando il carburatore non esiste in questa macchina che figura ah Andrew no carburatore no no ah 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 ah